... Benvenuti al Meteo di Telenuova nel giorno 25 ottobre in cui la Chiesa festeggia San Bernardo, ecco le previsioni del tempo previste. Piogge temporali ancora sulla Sicilia, specie la parte orientale che sarà colpita da acquazzoni, ultime nubi su Lazio e Sardegna con qualche pioggia sull'agropontino Gaeta, precipitazioni in arrivo su Calabria Meridionale, nebbie fitte al mattino su Valpadana, dal Piemonte al Veneto all'Emilia Romagna, sole altrove con temperature tra i 22 e i 24 gradi, nella notte previste peggioramenti su Liguria e coste tirreniche di Toscana, Lazio e Campania. Sulla nostra regione è previsto un rinforzo dell'anticiclone che spingerà massa di aria molto secche alle quote medio-alte dell'atmosfera, temperature che quindi resteranno molto miti, il tempo con il cielo che sarà in prevalenza sereno o al più leggermente velato, le temperature stazionarie, i venti deboli, il mare poco mosso.